Non ce l'ha fatta l'anziano signore ospite della casa di riposo di Novivelia, dove nei giorni scorsi si è sviluppato un focolaio tra degenti e operatori sanitari. Si tratta di Mario Iaquinto, 88enne originario del comune di Castellabate. L'anziano si è spento ieri pomeriggio a causa di un arresto cardiaco. L'88enne era risultato negativo al primo test e poi in seguito positivo al tampone molecolare. Pare comunque che il decesso non sia dovuto al covid. Resta delicata la situazione nella casa di riposo cilentana, dove i contagi sono saliti vertiginosamente. Per uno degli ospiti che ha contratto il virus, originario di Ceraso, è stato necessario il ricovero in terapia intensiva presso il Covid Hospital di Agropoli.